Siamo a 5 secondi, bomba localizzata Il muro è fatto La porta è stata barricata Drone nemico in posizione per la scansione Avvio del timer La squadra d'attacco ha trovato una bomba Preparare le difese La squadra d'attacco ha trovato la bomba Preparare le difese Drone nemico in posizione per la scansione Drone nemico in arrivo Drone nemico in posizione 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 Drone nemico in posizione